È vero che è tutto legato al rapporto con le proprie madri? No, le teorie iniziali sulla causa delle psicopatologie, una parte di queste teorie, erano molto interessate al concetto di rapporto con la figura materna, però faceva parte di un pensiero dell'epoca in cui la donna, peraltro, era vista in un modo molto diverso da oggi. Il fatto qual è? Che sicuramente il rapporto con la madre, il rapporto con le figure genitoriali all'inizio della propria esistenza è molto importante. Sembra che può anche andare a produrre degli aspetti duraturi su alcune caratteristiche di personalità, come per esempio hanno mostrato gli studi della teoria dell'attaccamento di John Bolby. Teorizzazioni come queste portarono anche a puntare l'indice sulle madri. Si parlò per esempio della madre schizofrenogenica, cioè una madre che genica generava schizofrenia, quindi che era causa colpevole della schizofrenia, della psicosi o delle problematiche in generale del figlio. Oggi possiamo dire che non è assolutamente così. I genitori, le relazioni primarie sono sicuramente importanti, però a lungo la tua vita avvengono tantissime cose, tanto che in psicologia si parla di fattori di rischio e fattori di protezione. Ci sono una serie di rischi di problematiche lungo la tua vita che possono contribuire a produrre un problema, e ci sono una serie di cose nella tua vita che ti permettono di risolverlo quel problema. A volte sono proprio gli schiaffi che prendi che ti permettono di diventare più forte e risolvere i problemi che avrai in futuro. In terapia breve si sa che il problema è come tu oggi affronti il problema. È ovvio che qualunque problema è stato generato nel passato, il problema che viene dal futuro, è una delle più abusate fantasie fantascientifiche. Il problema quindi è come affronti oggi il problema, le cose che fai e i modi in cui vedi, al di là di dove si è andato tutto, è su quello che insegna andare a regire. E nella telemedia vi si fa esattamente questo, dando delle soluzioni, dei compiti, delle strategie e delle visioni nuove che vadano a intaccare proprio quel tipo di comportamenti che oggi, nel presente, nell'ora, non funzionano. Visto che Edward Deming ha detto In God we trust all other brain data, cioè di Dio ci fidiamo, tutti gli altri devono portarci dei dati, le terapie ebrei hanno portato migliaia di dati con le ricerche su ricerche che mostrano che effettivamente andare ad agire sul presente e non su un'presunte cause passate risolve il problema più velocemente. Ciao e al prossimo video! Sì, ok.